Allora, partire da qui professor Cassese, perché credo che la legge elettorale a questo punto sia abbastanza cruciale, anche per la vita di questo governo, no? Perché insomma siamo in questa situazione strana in cui si ragiona con il maggioritario, si viene proporzionale, non si capisce più nulla? Non si capisce nulla perché cambiamo troppo di frequente leggi elettorali. Le leggi elettorali sono longeve e invece in Italia sono di breve durata. Dovremmo fermarci su una legge elettorale e principalmente tenere conto che quello che è successo in Umbria in realtà è una cosa normale in ogni democrazia. Schumpeter ha costruito la sua teoria della democrazia sull'alternanza. Dopo 49 anni c'è un'alternanza in Umbria. Niente di strano, dicevo. Niente di strano, anzi un mio collega americano tanti anni fa scrisse un bel libro sulle democrazie fuori del comune e chiamava la democrazia fuori del comune quelle dove non c'era l'alternanza, una volta il Giappone e l'Italia, perché c'era sempre la democrazia cristiana.